Buongiorno, buongiorno. 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 Anticipate, tagli fino al 15%. Il retroscena, così il governo usa il caso Vegas per coprire Etruria. Poi ancora il caso editoriale Gruber e Sala, una risata Vise Pelli Radio, Alessandro Sallusti. Poi Mein Kampf, distribuitelo in scuole e stadi. E questo è un editoriale del Corriere della Sera, come leggiamo, dello scorso 27 novembre del 99, firmato da Indro Montanelli. E poi ancora la fotonotizia, colpo di scena, crozza il messi della TV, molla la 7 per Discovery. E poi ancora huliganze e proteste di piazza, caos in Francia, due morti a Parigi in nome di ISIS, il terrorismo arriva agli europei. Avanti ancora con libero sindacati fuori di testa, vogliono più immigrati. In mancanza di iscritti, programmano di pareggiare i conti, importando milioni di stranieri. E poi ancora, di spalla, utero e presepe in affitto, vendola si sente San Giuseppe, un padre putativo, nell'articolo scritto da Mario Giordano. E poi in taglio medio, delitto politico, uccisa in Inghilterra perché tifa UE, deputata pugnalata al grido, prima la Gran Bretagna, il killer pazzo, non è il solo inglese che pensa che l'Unione l'abbia impoverito e riempito di stranieri. E poi ancora la Svizzera rinuncia a entrare nell'Unione Europea e dalla parte opposta, se passa Brexit, l'Italia non ci perde. In basso i tormenti di Roberto Bianco, cervello del pool difensivo del muratore, ho scoperto che Bossetti è innocente e non dormo la notte. Avanti con la prima pagina del Corriere della Sera, sangue sulla campagna anti-Brexit, uccisa la deputata europeista Cox, preso un uomo, gridava slogan nazionalisti, comizi sospesi, aggressione vicino a Leeds, con pistola e coltello, la parlamentare aveva due figli piccoli, Cameron parla di una tragedia. Poi c'è l'editoriale di Beppe Severgnini, il veleno dell'odio di Spalla, quel tifo per se stessi nel paese di Guicciardini, nell'articolo di Pierluigi Battista. Poi ancora, un taglio medio, il reportage della città libica tra i combattenti a Sirte, l'Isis, qui, non fa prigionieri. In basso, gli 80 incendi dolosi che consumano la Sicilia, autostrade chiuse e asili evacuati. Canadair a terra. E poi ancora, la prima pagina della Repubblica, ecco qui, ancora l'apertura, Brexit, sangue sul referendum, uccisa donna, simbolo del Labur, la deputata Joe Cox era impegnata anche sui migranti, l'assassino grida prima la Gran Bretagna. E poi l'analisi, l'Europa della paura e i politici sonnambuli. Di Spalla, risparmiatore suicida popolare di Vicenza per la BCE, vertici che sono colpevoli. E poi il caso, la domanda di giustizia che resta senza risposta. In taglio medio, il fuoco assedia Palermo, atti dolosi e criminali. Chiuse scuole, aeroporto e autostrada. In basso, la polemica, io escluso dallo strega, vi dico che è truccato. La prima pagina del tempo, brogli e cerchio magico, ecco la verità, parla Giorgia Meloni, amministrative vergognose, il ballottaggio a Roma andrebbe rinviato. Il futuro del centro-destra dal Cavaliere, faccio gli auguri, Giorisca, poi parleremo. È mal consigliato, chiaramente l'attenzione sulle elezioni amministrative, sul secondo turno, sul ballottaggio a Roma. Sotto la testata, agenti e pompieri con divise USA e getta si restringono, sono cucite al contrario e si possono lavare solo una volta al mese. Poi la fotonotizia, Luxuria, gli amici di Berlusconi non capisco perché fanno notizia. Vi racconto la Pascale a casa di Silvio. Poi la moglie del boss era Padova, l'inchino a Rina diventa un giallo, Ninetta non c'era. Poi in basso, Euro 2016, Italia-Svezia per andare agli ottavi, alle 15 azzurri in campo contro Ibra e Compani. Avanti ancora il manifesto, questa è l'apertura Union Joe con la sala del Parlamento europeo vuota, un po' in segno di lutto e poi sotto la testata la giunta dei Miraggi, Super Movimento 5 Stelle ai ballottaggi. Anche qui dunque l'attenzione sulle amministrative a Roma. Poi in basso, reazioni a metà dall'Egitto e da Cambridge, sul caso Giulio Regeni. L'unità serve l'impresa e l'impresa è possibile, possiamo vincere le sfide nei ballottaggi e riconquistare le città. Oggi ultimo giorno di campagna elettorale tra i cittadini con i nostri candidati sindaci. E poi qui in alto Sicilia assediata da incendi dolosi e colposi, intossicati, scuole e case evacuate e dietro c'è la criminalità. E poi ancora Brexit di sangue, uccisa la deputata laburista Joe Cox, Gran Bretagna sotto shock, Renzi, gli altri parlano, noi le tasse le stiamo tagliando. Andiamo a chiudere questa rassegna dei quotidiani nazionali con la prima pagina del mattino. Sangue su Brexit, uccisa deputata, laburista impegnata per il no, colpita da un uomo che gridava prima la Gran Bretagna. E poi ancora in taglio medio De Magistris Lettieri, qui chiaramente l'attenzione si sposta sul secondo turno a Napoli. De Magistris Lettieri, promesse e veleni in piazza, i comizi e le feste di chiusura con due bagni di folla. Con De Magistris che cerca il secondo mandato e con lo sfidante Lettieri. Il ballottaggio dirà chi sarà il prossimo primo cittadino a Napoli. Poi l'analisi è una scossa per indecisi e filoeuropei, questo sempre relativo all'attentato di ieri a Leeds nei confronti della parlamentare Cox. Possiamo ora lasciare i quotidiani nazionali, iniziamo la rassegna dei quotidiani locali vedendo le pagine del centro, le prime pagine delle quattro edizioni. Partiamo dall'edizione aquilana. Pratiche lente, scattano le sanzioni, ricostruzione, il comune corre ai ripari per sollecitare i progettisti. Sotto la testata c'è lo sport con l'Italia a caccia di un altro acuto ma occhio a Ibra e poi il commento, l'euforia, il primo rivale da dribblare. Al centro la fotonotizia, Silvia Galgani, la manager aquilana, elogiata da Renzi, la città che si fa apprezzare. Poi c'è l'editoriale di Antonio De Frenza, la regione scopre le carte, piano ospedaliero, novità e polemiche. I richiami di cronaca, l'Aquila controlli nelle strade della Movida, Avezzano, antidormi, tentato stupro su una quindicenne. Sul Mona, accuse e veleni in vista del ballottaggio. Il Buongiorno Abruzzo è curato questa volta da Roberto Raschiatore, morto 23 anni fa, convocato dai medici. Davvero una situazione a dir poco beffarda, per non dire altro. Prima pagina dell'edizione di Chieti. Mr. Porsche chiede il fallimento. Chieti, Paglione si arrende. Udienza per auto-in fissata a fine giugno. Poi la fotonotizia. Il porto diventa un caso. Ortona, il Consiglio Comunale, dice no ai serbatoi del GPL. Poi i richiami. Università, il GIP ordina nuove indagini su Del Vecchio. Niente archiviazione per il DG dell'Ateneo, appunto Filippo Del Vecchio. Il voto a vasto, menna, finisce nel mirino dei 5 stelle. Castaldi spara a zero sul candidato del centro-sinistra. La vigilia del voto. Vigilia del voto anche a Lanciano. D'Amico sfida Pupillo anche sul nuovo parco. Prima pagina dell'edizione Teramana. Il PM non ha ucciso per difendersi. Delitto di Giulianova. C'è anche l'accusa di porto abusivo di arma. La fotonotizia. Costa Teramana devastata da una forte mareggiata. Acqua fino agli ombrelloni. E chalet allagati. I richiami. Aveva 96 anni. Addio a pompa, maestro dei ristoratori a Teramo. E poi la società fallita. Il Giulianova chiede soldi al comune. Decreto ingiuntivo da 200 mila euro. Il comune resiste in giudizio. Roseto ballottaggio. Il confronto tra i candidati di Girolamo e Pavone. Ed ora andiamo con la prima pagina dell'edizione di Pescara. Dopodiché inizieremo a sfogliare le pagine del centro. E vedere anche i primi servizi. Mare sporco dal porto a via Galilei. Questa è l'apertura dell'edizione pescarese del centro. Le analisi non migliorano. A nord restano i divieti di balneazione. Poi ancora vivere nell'area di risulta tra sporcizia e degrado. L'accampamento che scuote il centro cittadino. Poi anche qui c'è un richiamo su quanto ho già visto sull'edizione di Chieti. Paglione chiede il fallimento dell'auto in via Rigopiano. Albero crolla all'improvviso. Paura nel parco. E poi calciomercato Sebastiani che dice la padula verso il Napoli. Avanti ancora ed entriamo dunque nelle pagine del centro. E subito la pagina 9, quella dell'Abruzzo. Il piano meno ospedali ma più sicuri. Paolucci presenta la riorganizzazione della rete e dei servizi. Serviranno anche cinque nuove strutture. Le parole di Paolucci. Dobbiamo occuparci di più degli anziani e dei cronici. Migliorando le cure domiciliari. E riducendo i ricoveri ospedaliere. Qui ci sono i numeri che sono stati illustrati ieri da Paolucci. L'utile di esercizio del 2015 con un più 7,1 milioni per cento. Il punteggio dei livelli essenziali di assistenza. L'ospedalizzazione, l'appropriatezza e l'ospedalizzazione degli over 75. Numeri che tra poco andremo a conoscere meglio con il servizio. Intanto ci sono polemiche proprio nei confronti del piano. Ci risiamo. Gerosolimo e altri due si rimettono di traverso. Disconosciamo questo piano perché non è stato discusso né in Giunta né in Consiglio regionale. Ci sono zone dove non è garantito il diritto alla salute. Poi in basso parla anche l'ex Presidente della Regione ed ex Commissario alla Sanità Gianni Chiodi. Dicevano che io ero Attila, ora sono anche in perdite. Allora andiamo a vedere il servizio con l'intervista all'assessore regionale Paolucci. Assessore Paolucci, piano sanitario regionale 2016-2018. Quali le novità più importanti? Intanto è un atto importante perché come prevede la legge, nel momento in cui una regione vuole uscire dal piano di rientro, ma soprattutto dal commissariamento, deve presentare un piano di riqualificazione che è quello che stiamo facendo. L'ultimo atto è quello conclusivo. Legge è una realtà nella quale la Regione Abruzzo per la prima volta è adempiente sui livelli essenziali di assistenza e quindi si proietta verso nuove sfide e nuovi obiettivi. Elevare la qualità dell'offerta, anche concentrando l'ospedaliera, investire molto sul territorio. Allo stesso tempo dare una risposta ai tanti fragili, ai tanti non asufficienti, ai tanti anziani, ai tanti cronici che debbono andare in ospedale invece potrebbe avere quel servizio sotto casa, in qualche caso anche dentro casa. Questo dice il piano. Per quanto riguarda proprio l'uscita dal commissariamento, quali novità? Abbiamo fatto tutto. Vi erano tre ultime prescrizioni nel tavolo del 19 di aprile. Abbiamo soddisfatto tutte e tre le richieste, per cui il Governo è libero di scegliere quando vuole, se portare e quando portare la delibera in Consiglio dei Ministri per la fuoriuscita. Resta poi la problematica di alcuni ospedali delle aree interne che sono stati di fatto ridimensionati. Ma nessuno, perché tutte le strutture delle aree interne, nessuno è stato chiuso, anzi al contrario, si sta investendo molto sulla residenzialità territoriale, cioè proprio su quegli aspetti che riguardano le prestazioni per i cronici, che sono quelli prevalenti appunto delle aree interne. Inoltre abbiamo investito su una rete di emergenza urgenza più diffusa, con postazioni del 118 e quindi delle ambulanze che sono in grado di dare in tempi migliori risposte più adeguate. Proseguiamo sul centro, voucher, buoni lavoro tracciabili, ecco come funzionano, il datore di lavoro deve comunicare il loro utilizzo e i dati del lavoratore per sms o mail, l'ispettorato un'ora prima della prestazione, sanzioni che sono pesanti. Poi in basso Baltur si allarga e fa 30 assunzioni, nuovo programma dei collegamenti su bus di linea in sinergia con l'altro brand Eurolines. E poi ancora le novità nel settore in agricoltura, norme e tetti più flessibili. Avanti con le pagine di Pescara, parliamo delle analisi sulla qualità delle acque del mare, mare ancora sporco fino a via Galilei. Non migliorano i dati nel tratto inquinato della Riviera Nord, restano i divieti, ma l'Arta ha già fatto altri campionamenti. Qui vediamo i punti dove sono stati fatti i rilievi, le analisi, via Balilla, via Galilei, via Muzzi, Fosso, Vallelunga, via Cadorna, rotonda viale della Riviera a 100 metri sud dal porto turistico. Il tratto antistante, il teatro d'annunzio, è a 100 metri a nord da Fosso Pretaro. E poi ancora disperati in città, l'accampamento nascosto tra i parcheggi al Ferrotel. Sono 50, hanno i furgoni ma dormono sotto gli alberi in mezzo ai rifiuti. Sono assistiti da volontari, il comune li manda in albergo quando fa troppo freddo, ma loro non si adattano. E qui vediamo alcuni degli scatti che testimoniano appunto lo stato delle cose, lo stato di degrado. In basso possiamo leggere, nuova area di risulta, la parola agli architetti, incontro con i tecnici voluto dal comune, la possibilità di cambiamento urbano, e una opportunità in via Rigopiano, sfrattati gli abusivi dalle case Ater e i cittadini abbracciano i vigili. Sempre in via Rigopiano, grosso albero crolla dentro il parco, tragedia sfiorata nell'area ex monopolio. Un cittadino che dice, ho rischiato di morire, l'agronomo, abbatteremo tre piante. E poi ancora la città che perde la storica corsa, il Matteotti. Si cerca di salvare il trofeo, ma per il patron Ricci è tardi. Pensiamo al 2017. La regione tenta di raccimolare i fondi necessari per far disputare la competizione ciclistica, ma il patron guarda già avanti. L'anno prossimo vogliamo ospitare il campionato italiano. Poi c'è questa lettera particolare degli studenti del Mantone e la nostra gara scelta dolorosa. Allora andiamo proprio a puntare l'attenzione sull'annullamento dell'edizione 2016 del trofeo Matteotti, anche con le parole del patron della corsa, il presidente dell'Unione ciclistica, Fernando Perna Ricci. Non ci sono stati i presupposti per affrontare questo 69esimo trofeo Matteotti, perché non potevo io garantire al 100% la spesa e quindi non ho avuto nessun colloquio positivo da parte dell'istituzione. Punto. Io non ho forzato nessuno, perché il trofeo Matteotti non deve forzare. A me mi è costato, non mi è costato a livello economico, ma mi è costato a livello di persona, di sentimento. Noi anche siamo rimasti dispiaciuti di questo annuncio del patron Ricci, anche perché gli ultimi incontri che abbiamo fatto lui non aveva fatto assolutamente trasferire un'intenzione del genere. Noi purtroppo non per la situazione di predissesto del Comune, non abbiamo la possibilità di erogare contributi. Questo ci dispiace molto, voglio dire, noi da parte nostra siamo sempre stati vicini al patron Ricci. Io in ogni caso, voglio dire, l'ho sentito fino a qualche settimana fa. Sapevamo che da parte del patron c'era la volontà di coinvolgere un po' di imprenditori per sponsorizzare l'evento. Evidentemente questo non è riuscito, ma per noi è un grande dispiacere. Insomma, noi in ogni caso, io nel giro di qualche giorno mi sentirò con Ricci per cercare di capire bene quali sono i motivi dell'annullamento di questa gara. Ripeto, noi siamo assolutamente a disposizione. Se ci si chiede supporto logistico, siamo pronti a supportarla in tutte le maniere possibili. Contributi non siamo in grado di poterne garantire. Torniamo sul centro. I giudici, figlio autistico, non è colpa del vaccino. La Cassazione ha negato il risarcimento alla madre di un ragazzo pescarese. La donna aveva chiamato in causa il Ministero della Salute e ha chiesto l'indennizzo. Ora le pagine di Montesilvano si allontanano da casa per motivi di salute e la ritrovano occupata. Secondo episodio in pochi giorni, sempre in via Rimini, la giovane coppia di abusivi è stata allontanata dai vigili. Poi sempre il problema prostituzione in città Montesilvano. Prostituti in strada già dalla mattina. Nuova denuncia e oggi un altro corteo. Poi ancora in basso un accampamento medievale nel parco. Domani e domenica bivacchi, fanti, cavalieri e armature nell'area verde Papa Giovanni Paolo. Montesilvano omaggia le ragazze della Serie A. La squadra di calcio a 5 femminile ha vinto il secondo scudetto in 5 anni. Il sindaco Maragno, grazie per aver portato in alto il nome della città. E complimenti appunto al Montesilvano calcio a 5 femminile per quest'altro titolo tricolore. Francavilla giunta, Francavilla buttari, primo vice sindaco donna, la più votata alle ultime elezioni ha ottenuto dal sindaco Luciani le stesse deleghe. Campli all'urbanistica e Marinelli all'ambiente in consiglio di Girolamo e Accettella. Avanti ancora, sempre in tema di nuovi sindaci, siamo a Penne e Popoli. Di Semproni continuo a fare il medico, costerò poco a Penne, ma alle critiche per l'assunzione della segretaria di staff replica è necessaria. C'è un lavoro imponente da fare. E a Popoli c'è il Galli Bis pronto a ripartire dalle incompiute, le priorità, ospedale, centro storico e viabilità, ma occorre attrarre imprenditori con incentivi e sgravi. Pagina di Chieti, il re delle concessionarie, Mr. Porsche, chiede l'autofallimento. Paglione getta la spugna, il 27 giugno l'udienza che decide la sorte della società Autoin che ha l'autosalone a Firenze. Poi Lanciano e Vasto che si avvicinano al ballottaggio, il candidato Menna nel mirino del Movimento 5 Stelle a Vasto, a Lanciano, fusione Comune e Central Park, scontro tra Pupillo e D'Amico. Avanti con la pagina dell'Aquila, siamo nella Marsica, ad Avezzano, morto nel 1993, la ASL lo chiama per la visita. Il fratello dell'uomo è una vergogna, l'azienda spediti 50.000 avvisi per la prevenzione, ci scusiamo per l'errore. Poi in basso la manager aquiliana che ha stregato Renzi, intervista a Silvia Galgani all'Assemblea ConfCommercio, che ha ricevuto elogi e un bacio dal Premier. La pagina di Teramo, il delitto di Giulianova, la Procura non ha ucciso per difesa. Dante Di Silvestre è accustato di omicidio aggravato dai futili motivi, oggi l'udienza di convalida dal giudice. Cialini è morto dissanguato, per l'autopsia appunto questo è il verdetto, la violenta coltellata gli ha perforato il ventricolo sinistro. E poi ci sono le parole del vescovo della diocesi di Teramoatri, Monsignor Michele Seccia, un clima di insofferenza. E allora noi andiamo a effettuare ora il nostro break, prima di andare in pubblicità andiamo a dare il buongiorno a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Andrea, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, prima di fare le previsioni meteo, ti faccio vedere questa pagina Giovanni, e poi ci saranno anche delle foto ulteriori a corredo, spiagge sparite, chalet allagati, danni e problemi in vari tratti della costa teramana, le situazioni più gravi ad Alba e Pineto. Ieri un mare a di poco impetuoso che ha procurato danni che possiamo vedere nelle foto. Cosa possiamo aggiungere su quanto stiamo vedendo Giovanni e se questa condizione del mare si riproporrà anche nelle prossime ore? Allora, sì Andrea, purtroppo il problema è stato causato da forti correnti di scirocco, che ha soprattutto a largo, non tanto lungo la fascia costiera, ma soprattutto a largo, e lo scirocco ha favorito un deciso aumento del moto ondoso, ovviamente quando il mare è sospinto dalle correnti sciroccali per la nostra costa sono guai, purtroppo perché le mareggiate riescono a fare molti danni, come è accaduto nella giornata di ieri. Per questa situazione e per il mare comunque la situazione è il miglioramento, perché le correnti sciroccali fortunatamente tendono gradualmente ad attenuarsi, anche se nelle prossime ore continueremo ad avere venti orientali, quindi piano piano iniziano ad assumere caratteristiche, che i cementi tendranno a provenire dai quadranti orientali e gradualmente si attenueranno. Quindi questa è una buona notizia, anche se nelle prossime ore il mare continuerà ad essere ancora molto mosso, non talmente agitato, ma comunque in graduale attenuazione. Ieri siamo stati interessati da un deciso aumento delle temperature, proprio per effetto dell'arrivo di queste masse d'aria calda provenienti dall'entroterra algerina e tunisino, che hanno portato con sé anche la sabbia africana in sospensione, in alcuni casi ci sono stati anche dei rovesci misti a sabbia, ma con precipitazioni decisamente molto cariche di sabbia africana. Anche per quel che riguarda la sabbia, Andrea, la situazione è in miglioramento, il flusso caldo tende a spostarsi ulteriormente verso le regioni meridionali, ma da noi la situazione inizia a cambiare. Quindi se da un lato al mattino avremo condizioni di cielo poco nuvoroso, con annuvolamenti più compatti sul settore occidentale, sulla marfica, la situazione nel corso del pomeriggio vedrà la possibilità di qualche addensamento, soprattutto sulla fascia orientale e sulle zone montuose, nel pomeriggio, tardo pomeriggio. Non si escludono formazioni temporalesche, è una possibilità da non sottovalutare questa, certo che qualora si formassero questi fenomeni non escludo che si possono diventare anche localmente intensi. Quindi c'è questa possibilità. Mentre la giornata di sabato sarà una giornata di attesa perché avremo un tempo migliore con qualche annuvolamento sulle zone montuose, ma la tendenza poi è verso un peggioramento perché, lo avevamo annunciato nei giorni scorsi, Andrea, tempo in peggioramento a causa dell'arrivo di una perturbazione proveniente dalla Francia che raggiungerà proprio le regioni centrosettentrionali e poi coinvolgerà gran parte della nostra penisola. Si tratta di masse d'aria più fresca che favoriranno anche una generale diminuzione delle temperature rispetto ai valori che abbiamo avuto in queste ultime ore, ma l'arrivo dell'aria fredda che scorrerà proprio sull'aria calda, carica di umidità presente in queste ultime ore sulla nostra regione e non solo darà luogo, anzi molto probabilmente, alla formazione di temporali di forte intensità nella giornata di domenica, quindi avremo una domenica instabile a tratti perturbati. Ci saranno dei fenomeni che potrebbero dar luogo localmente anche a delle grandinate. Questo è opportuno segnalarlo. Poi l'instabilità purtroppo continuerà a manifestarsi anche nei giorni successivi, anche nei primi giorni della prossima settimana, perché questa perturbazione andrà a stazionare dapprima sulle regioni centrali e poi si sposterà molto lentamente verso le estreme regioni meridionali. Quindi questa situazione, Andrea, non prelude al bel tempo. Continueremo ad avere fenomeni di instabilità e l'alta pressione al momento non sembra destinata a rinforzarsi sul Mediterraneo centrale, Andrea. Grazie Giovanni, grazie per questo dettagliato update, come ormai si dice, C'è il meteo update, come fai anche tu di solito su Facebook. E allora ti auguro una buona giornata. Grazie Andrea, una buona giornata anche a te e a tutti i tre spettatori di TV6. Grazie Giovanni De Palma e dopo il meteo update andiamo in pubblicità. Di nuovo buongiorno, è la seconda parte di Mattino 6 che iniziamo con la prima pagina del Messaggero Abruzzo. Questa è l'apertura, Diktat Arta, il mare non guarisce. Le analisi confermano, il diveto di balneazione resta dal fiume fino a via Galilei. I balneari puntano sui servizi di qualità, domani il risponso del nuovo campionamento. E poi sotto la testata, giorno e notte, Circo Zoe, apre Funambolica, l'Aquila, Turci al Parco del Castello. A Teramo inaugurati i giardini intitolati a Pannella. All'Aquila ricostruzione e pratiche lumache, il rischio di perdite da capogiro, l'allarme dell'assessore Di Stefano. I soldi ci sono ma non vengono spesi di questo passo, saremo sanzionati in bilico fondi per centinaia di milioni. E poi di spalla alpinismo in piazza, Moro racconta l'Himalaya. Domani a Pretoro i racconti della guida che ha scalato diversi 8 mila. Poi la fotonotizia con lo sport, Napoli-Lapadula si firma. E poi in taglio medio, delitto Cialini, il complice riconosciuto dalla bambina a Giulianova, il giallo della seconda portiera aperta nel fiorino di Silvestre. Poi Chieti, Paglione chiede l'autofallimento. In basso, ballottaggi, candidati a caccia dei voti indecisi. All'interno del messaggero Abruzzo, un super ospedale e sanità sul territorio. Inizia la vera sfida, Paolucci e Zuccatelli, già oltre la fine del commissariamento. La rivoluzione, potenziamento dei servizi e distretti aperti. H24, avanti ancora con la pagina di Pescara. Niente tuffi fino a Via Galilei, dice l'Arta. Le analisi confermano l'inquinamento sul primo tratto del litorale nord a causa del fiume. H al lavoro sul DK15, già eseguito un altro campionamento. Domani il risponso, ma per eliminare i divieti servono due risultati favorevoli. Poi in basso, da NCD a Pescara in testa, il gruppo di Guerino chiede il cambio del nome, l'ufficializzazione al prossimo Consiglio Comunale per riaffermare lo spirito di centro-destra. Avanti ancora, Viale dei Pini, si ripiantano 37 alberi. Il comune procede al ripristino degli esemplari dopo il taglio di quelli malati. Cinque sono stati donati dal Lions Club Flaiano. L'assessore Di Pietro annuncia anche il lavaggio dei lecci. Pace fatta tra Alessandrini e la sovrintendente Picchione. Poi al centro, abusivi sgomberati dalle case Ater. Blitz a Pescara e a Montesilvano, polizia municipale in prima linea. In via Rigopiano sequestrati 16 motorini, 2 rubati e 14 non assicurati. Andiamo ora a Francavilla. Vice sindaco donna a Francavilla. Buttari è nella storia. D'ha riconfermato Antonio Luciani. Una forte impronta rosa e di rinnovamento. L'esecutivo è composto da under 55 persone nella giunta. Corsa per definire gli eventi estivi al Blue Bar. Arriva Francesco De Gregori. Andiamo a vedere ora il servizio di presentazione della nuova giunta municipale di Francavilla al Mare. Francavilla al Mare ufficializza i nomi dei componenti della nuova giunta. E il sindaco, per il suo secondo mandato consecutivo, annuncia di aver sofferto l'attesa. Perché tante sono le cose da fare e dunque tutti subito a lavoro. La giunta è stata formata a tempo di record. Perché ieri sera alle 18 c'è stata la proclamazione dei consiglieri. Questa mattina siamo già qui a presentare la giunta. Quindi in perfetto stile Luciani, se mi passate il termine. Quindi con molta velocità. In sostanza abbiamo dato rappresentanza a tutte le liste che si sono candidate con me. Abbiamo scelto un criterio legato ai voti ottenuti. Mi sembrava giusto perché con il successo elettorale che abbiamo avuto la città meritava questo. A comporre la giunta sono Francesca Buttari, classe 1977, nominata vice sindaco. E con delega alle politiche sociali, giovanili, comunitarie, istruzione, accoglienza e pace. Rocco Libertini, classe 1966, si occuperà di bilancio e programmazione, società partecipate, personale, innovazione tecnologica, sport e tempo libero. Davide Campli, classe 1972, al quale sono state consegnate deleghe all'urbanistica, contenzioso, patrimonio, statuto e regolamenti comunali. Williams Marinelli, classe 1970, si occuperà di ambiente ed ecologia, efficientamento energetico e verde pubblico. Infine Sandra Ferri, classe 1968, la quale spetterà il demanio, il SUAP, sportello unico attività produttive e il commercio. E possiamo proseguire la nostra rassegna con le pagine dell'Aquila. Pratiche lumaca e tecnici indolenti, ritardi per 300 milioni di euro. L'allarme è di Di Stefano, ci sono i soldi ma non si spendono. Pronte le sanzioni, se le cose non cambieranno è a rischio lo stanziamento annuale da 800 milioni. Varato il nuovo front office per il deposito delle schede parametriche, parte seconda. Poi ancora, sempre in provincia dell'Aquila, ma siamo ad Avezzano, un museo virtuale per rilanciare i tesori marsicani. Il comune vara un mega sito internet con tutte le opere. Poi ancora, a Surmona, Mensa, il commissario non ritira il tariffario. Boom di richieste per l'esenzione parziale totale, sono già 325 i modelli ISEE depositati. Pagina di Chieti, Paglione presenta l'istanza per il fallimento improprio. Prima udienza fissata per il 27 giugno, autorizzato l'affitto del ramo d'azienda. A fine 2015 l'imprenditore aveva avanzato domanda di concordato con riserva. La procedura riguarda AutoIn, concessionaria Porsche per Firenze e Arezzo, per le altre tre società del gruppo futuro. Ancora incerto. Poi la cronaca, pusher bloccato dai carabinieri, mentre spaccia Mariuana. Avanti ancora e siamo a Ortona. Il Consiglio Comunale vota compatto contro il deposito GPL. Temperatura bollente in aula. Coletti, capogruppo del PD, propone una modifica alla delibera, ma non passa. Quindi le due città al voto. A Lanciano, Pupillo, hai svenduto la città alla Paolucci. Replica il concorrente d'amico. Central Park delibera vuota. Volano gli stracci a 48 ore dal voto. Doppia conferenza stampa e accuse reciproche. A vasto menna sbandiera gli errori del passato. Desiati a caccia di indecisi e astenuti. Il Lago della Bilancia potrebbe stare nelle preferenze di Nuovo Faro e Rinascita Bastese. Siamo a Teramo, provincia. Inaugurati i Giardini Pannella. Il ricordo del leader radicale vivrà in eterno, legato al cuore verde urbano della sua città, che ha sempre amato. La cerimonia alla presenza di amici e della compagna storica Mirella Paracchini. Il toccante ricordo del suo legame con la natura. Negli ultimi giorni di vita Marco si commuoveva guardando gli alberi e gli uccelli sui rami. Poi ancora, ospedali tutti a corto di personale. I sindacati chiedono un tavolo urgente. Il manager della ASL Fagnano ammette situazione grave. Intanto annullata l'assunzione di nuovi dirigenti. Avanti ancora. Siamo al delitto di Giulianova. Forse è identificato il secondo uomo dell'omicidio Cialini. La bambina lo avrebbe riconosciuto attraverso le foto. L'autopsia conferma l'uomo ucciso da una coltellata al cuore. Il servizio della nostra redazione. Una coltellata al cuore per un diverbio del traffico. È morto così nel centro di Giulianova a Paolo Cialini con un solo colpo che gli ha provocato un'emoragia massiva. E il risponso dell'autopsia, durata quasi tre ore, eseguita dall'anatopopatologo Giuseppe Sciarra. Il dottor Sciarra ha svolto l'esame autoptico presso l'obitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo. Presente il solo consulente di parte, il medico legale Crinstein Dovidio, nominato dalla difesa di Dante Di Silvestre, il caldaista 59enne, in carcere con l'accusa di omicidio volontario. Cialini e Di Silvestre, secondo la ricostruzione dei carabinieri, hanno inizialmente discusso per un diverbio stradale, con la vittima che avrebbe colpito l'altro con un calcio e poi con un pugno, prima di risalire in auto e ripartire in direzione di Via Verdi. Via dove la sua auto sarebbe stata raggiunta di nuovo dal furgoncino del 59enne e dove la discussione sarebbe finita in tragedia. I carabinieri della compagnia di Giulianova hanno già ascoltato con tutte le accortezze del caso la figlia di Cialini al momento unica a testimone di quanto accaduto. La testimonianza della piccola alla presenza di uno psicologo è al vaglio del PM Irene Scordamaglia, titolare del fascicolo d'inchiesta, che sta valutando eventuali elementi utili. Ed è proprio la bambina a parlare di un secondo uomo che durante la prima lite probabilmente viaggiava nel furgone Fiorino insieme a Di Silvestre. Potrebbe però trattarsi di un terzo uomo intervenuto per sedare la lite oppure di un collega del caldaista. Il procuratore della Repubblica, Antonio Guerriero, ha chiesto a chiunque si trovasse in Via Orsini di aiutare i carabinieri di Giulianova a ricostruire quanto accaduto, poco dopo le 15.30, tra Cialini e Di Silvestre. Intanto è prevista per domani l'udienza di convalida dell'arresto di Dante Di Silvestre davanti al GIP Domenico Canosa. Proseguiamo la nostra rassegna con la città, il quotidiano della provincia di Teramo, ucciso da una singola pugnalata, delitto di Giulianova. L'autopsia rivela che la lama ha squarciato il ventricolo sinistro di Cialini. Poi sotto la testata Cassazione boccia un ricorso della famiglia abruzzese escluso ogni legame tra vaccino e autismo. Alba e Martinsicuro mareggiate e divieti, la stagione comincia male. Poi chitarra in paradiso, Elio Pompassi è spento il maestro della cucina teramana. Poi c'è il corsivo di Federico De Carolis, Eurodeca, se l'Italia vince può anche volare. In riferimento alla partita di oggi del campionato europeo tra Italia e Svezia. I richiami di spalla. Adesso sono i giardini di Marco Pannella. Giulianova muore a 77 anni, l'ambientalista Bruno Braca a Castellalto. Nella giunta di Marco solo i più votati. Roseto sfida l'ultimo comizio, Pavone di Girolamo in piazza prima del ballottaggio e poi per lo sport. Cenciarelli lascia il teramo, Natali torna al San Nicolò dopo un anno. Entriamo ora all'interno della città e siamo qui appunto al ricordo di Elio Pompa. È morto il maestro della cucina teramana. Il notissimo ristoratore si è spento. All'età di 96 anni ha ispirato l'eccellenza in generazioni di cuochi. Tradizione e innovazione. Ha portato i piatti tradizionali delle mamme teramane al ristorante fissando i canoni della cucina teramana di alto livello. L'ultimo addio, i funerali saranno celebrati domani alle 10 nella chiesa di Villa Mosca. Poi ancora un milione alla ricerca Unitele. Europa finanzia gli studi per le buone pratiche nelle piccole e medie imprese. L'omaggio della provincia, il giardino dei cedri intitolato a pannella. La frase incisa sulla targa è tra le più celebri del leader radicale. Il crimine più grande è stare con le mani in mano. E a tal proposito vediamo quest'altro servizio, questo ultimo servizio che vi proponiamo questa mattina realizzato per il Tg6. Intanto Marco ci sarà in quanto anche la città di Teramo lo farà stare, lo farà esistere. Un giardino intitolato alla memoria di Marco Pannella è il giardino dei cedri annesso al palazzo della provincia di Via Miglia, Teramo, riaperto alla città proprio con l'intitolazione al leader dei radicali. Marco è qui, come direbbe lui, non me ne sono mai it, non me ne sono mai andato, sono qui. E perché le sue iniziative, le sue lotte sono in corso. Si tratta di uno spazio verde realizzato nel 1888 insieme alla Scuola Normale Femminile su progetto di Gaetano Grugnola. Uno spazio verde dalle peculiari caratteristiche arbore e progettuali che d'ora in poi potrà essere utilizzato dai cittadini e dalle associazioni. È uno spazio pubblico che viene riconsegnato alla collettività cioè si riapre alla città di Teramo come Marco Pannella si apriva alla società italiana. Qualche istante fa poi ho scoperto e con gran piacere che lo zio di Marco Pannella Jacinto Pannella aveva realizzato la prima guida illustrata di questo giardino quindi c'è un filo rosso di continuità storica ideale e istituzionale che viene in qualche modo valorizzato. E proseguiamo con gli ultimi dieci minuti scarsi di Rassegna Stampa sempre sulla città. Castellalto in giunta finiscono i più votati il sindaco Di Marco sceglie i consiglieri comunali che hanno ricevuto più consensi dagli elettori il vice di Di Marco sarà Domenico Saccomandi da molti visto come l'erede politico del sindaco che ha usato il criterio del voto un metodo che gli ha permesso di evitare eventuali critiche da parte degli esclusi dopo le polemiche sul rimpasto di giunta dello scorso anno. E qui vediamo quelli che sono i componenti della giunta Valeria Manelli, Domenico Saccomandi appunto il vice sindaco poi Aniceto Rocci e Valentina Tini quattro assessori e appunto al centro il sindaco Di Marco. Avanti, mareggiate e divieti la stagione inizia male ad Alba e Martinsicuro batteri fecali fuori norma in tre tratti di spiaggia a Villarosa il mare Forza 6 devasta gli stabilimenti il divieto di balnazione riguarda il tratto fino a 250 metri a nord della foce del Vibrata la zona centrale di Villarosa è nei pressi della Vecco il maltempo, il vento ha spinto le onde fino alla quinta fila degli stabilimenti provocando danni ingenti avanti con il delitto di Giuliano Vaccialini ucciso da una singola pugnalata al cuore e poi a Silvi precipita un aereo ma è solo una esercitazione la maxi simulazione ha visto impegnati 120 operatori tra Croce Rossa, Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine collaborazione ancora una volta alla macchina delle emergenze ha dato dimostrazione di efficienza e spirito di collaborazione Roseto al ballottaggio Pavone e Di Girolamo sfida l'ultimo comizio questa sera alle 21 i comizi finali dei due candidati sindaci in vista del ballottaggio di domenica serietà, Sabatino Di Girolamo promette di non cadere in veti in crocetti e di lasciare la sua carica in caso di blocco dell'amministrazione Egno Pavone si appella ai rosetani chiedendo di non rimettere la città in mano ai soliti noti avanti ancora con le pagine dedicate agli eventi notte romantica civitelle e castelli borghi belli e romantici per il sostizio d'estate si festeggia con mostre danza, teatro, poesia, fuochi d'artificio e cene a tema appuntamento per sabato 25 giugno per una notte di eventi in due dei 253 borghi più belli d'Italia e poi c'è anche il contest fotografico con l'hashtag Instagram Borgo Romantico 2016 si parteciperà al concorso per lo scatto più bello premiato con un soggiorno in uno dei 253 borghi più belli d'Italia avanti con lo sport Cenciarelli lascia il teramo ma dio forse l'addio del mediano biancorosso è ormai certo, probabile anche quello del regista tentato dal Latina il DS Lupo a Milano per piazzare i primi colpi resta vivo l'interesse per Guidoni in uscita da Sant'Arcangelo che lascia una porta aperta all'ipotesi di raggiungere il suo ex tecnico Zauli e poi ancora Alfredo Natali torna al San Nicolò dopo un anno di separazione rientra nella società di Salvatore Di Giovanni come direttore generale il presidente soddisfatto per il ritorno di un amico ma anche di un valido professionista con questi titoli abbiamo praticamente aperto la pagina dello sport facciamo un passo indietro e andiamo alle testate nazionali a vedere le prime pagine di Gazzetta Corriere e Tutto Sport qui siamo sulla Gazzetta chiaramente sono tutti i titoli che riguardano la gara di oggi tra Italia e Svezia ore 15 dopo il super esordio gli azzurri ci riprovano non ci fai paura Ibra fatti sotto l'Italia vuole gli ottavi qualificazione sicura con una vittoria Conte, Zlatan sposta gli equilibri ma noi abbiamo il fuoco dentro e vi spieghiamo come si può fermare c'è il commento di Gianni Valenti c'è già il paese che spinge poi in basso Ucraina eliminata Müller e Lewandowski meglio le difese Germania-Polonia 0 gol il derby britannico l'invincibile Vardy entra e risveglia l'Inghilterra Bale si inchina al 92 gli assi Juve Pogba che bufera attorno all'ombrello Morata in contatto Chelsea e poi in basso Lazio-Loca in arrivo Bielsa l'uomo mercato ovviamente è lui Gianluca Lapadula Lapadula è Napoli c'è il sì del Pescara Amsic resto andiamo a vedere ora la prima pagina del Corriere dello Sport Ibra paga il conto Conte prepara una gabbia per fermare lo svedese Florenzi la novità Buffon noi brutti sporchi e cattivi dopo pranzo azzurri in campo per conquistare gli ottavi e vendicare il biscotto di Euro 2004 sotto la testata Inter-Candreva si può trattare ma solo per soldi la Lazio rifiuta contropartite poi c'è Giampaolo per la panchina del Milan cinese ma Brocchi spera ancora in basso Inghilterra colpa il 92esimo la Germania non passa Tutto Sport Italia fa gli ingoiare il biscotto ore 15 c'è la Svezia di Ibra che fregò gli azzurri nell'europeo del 2004 Juve Mascherano e Witzel si insiste al centro ma non solo e in basso il toro stringe per Iago e torna di moda De Frel andiamo ora sui quotidiani locali con le pagine dello sport in particolare iniziamo dal centro saltando le pagine sull'europeo ecco qui le pagine sul Pescara le parole di Sebastiani il presidente del Pescara la Padula verso Napoli il club campano offre all'attaccante 5 anni di contratto a 800 mila euro a stagione i campani vogliono anche Caprari Sarri telefona l'Apagol per convincerlo Sassuolo e Juve non mollano Crescenzi riscattato dalla Roma Verde torna nella capitale e chiesto Sadik no dei giallorossi poi in basso Rangers alle ore 18 il via alla festa per i 40 anni del club incontri con le vecchie glorie ci sarà anche Repetto ci sono poi anche le parole del tecnico Massimo Oddo la Serie A è difficile non si può smantellare il tecnico ospite del Rotary è presto per dire chi va via e chi viene abbiamo bisogno di mantenere la struttura portante e puntellarla con i rinforzi il 10 agosto test col Perugia Vernissage all'Adrietico contro la squadra dell'ex Cristian Bucchi Lega Pro per il ruolo di DS conferme a Lanciano su Matteo Materazzi la società rossonera deve scegliere il successore di Leone il fratello dell'ex difensore dell'Inter piace Aimaio il Teramo su Guidone l'attaccante lancia segnali di fumo il DS Lupo a Milano trattative su 3-4 giocatori Cenciarelli Addio Amadio alla Latina forte verso la Lucchese Serie D l'Aquila c'è l'aumento di capitale varata la manovra da 600.000 euro confermate le quote sottoscritte Iannini per ora non entra andiamo ora con la pallannuoto femminile l'Original Marine va in finale per la A1 la compagine pescarese la più giovane del torneo di A2 batte nella bella la Racing Roma 5-4 ora lo scoglio Florenzia andiamo a chiudere con le pagine dello sport del messaggero prima di congedarci ecco qui ci siamo la Padula Napoli si firma martedì probabilmente ci sarà l'incontro decisivo a Roma al Pescara 12 milioni più il prestito per un anno di Caprari ieri il presidente a Trigoria per il riscatto di Verde e Crescenzi Oddo in pressing per ottenere il centrocampista Cristante ai giallorossi chiesti in mano Sadik e il bomber paraguaggio Sanabria rinnovo del prestito ipotesi per Verre poi ancora i Rangers festeggiano il quarantennale come abbiamo visto e ci sono le parole anche del collaboratore tecnico di Massimo Oddo l'ex bomber del Pescara Dario Di Giannatale il segreto ci abbiamo messo il cuore in basso si parla di basket i Roseto Sharks perdono Moreno e Marulli la guardia cubana segue il suo ex coach Trullo a Ferrara il playmaker accetta l'offerta di Reggio Calabria e poi ancora Virtus il nuovo DS sarà Materazzi di Francesco verso la Juve che lo girerebbe al Bologna Croce Guidone e a Righini i primi obiettivi del Teramo ci possiamo fermare qui con la rassegna stampa di mattino 6 vi ricordo gli appuntamenti del nostro Tg alle ore 14 alle ore 19 e alle ore 23 io ringrazio Maurizio Degui in regia e ringrazio voi che ci avete seguito nel corso di questa mattinata buona giornata grazie a tutti grazie a tutti